Durante il regno di Carlo Alberto si era già messo in luce per le sue idee Camillo Benso, conte di Cavour e la sua importanza farà sì che il nuovo sovrano Vittorio Emanuele II lo nomini presidente del consiglio. Cavour aveva le idee ben chiare, voleva innanzitutto aumentare lo sviluppo del regno di Sardegna, che tra l'altro era già lo stato più moderno della penisola italica. Voleva anche che fosse proprio il regno di Sardegna a far diventare indipendente l'Italia, un'Italia che doveva essere unita e soprattutto mettersi al pari con gli altri stati, gli altri regni dell'Europa. Questi i suoi obiettivi, ma come fare per raggiungerli? Sicuramente con una politica moderata, quindi niente sommosse, niente moti, niente rivoluzioni. Poi favorendo gli imprenditori perché in questo modo potessero sviluppare l'economia. E infine, contrastando tutte le forze contrarie alle sue idee, come i conservatori, i repubblicani, ma a cominciare prima di tutto dalla Chiesa, che con tutto il rispetto necessario, però secondo Cavour avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente di questioni di carattere religioso. Cavour riesce a fare approvare dal Parlamento alcune leggi che migliorarono l'economia sabauda. Intanto via i dazi interni e le barriere doganali, così da poter commerciare più liberamente e soprattutto con più vantaggi con gli altri paesi europei. Poi vara una riforma fiscale in modo da far pagare più tasse ai ricchi e in questo modo aumenta le entrate dello Stato. Queste nuove entrate permisero la costruzione di importanti opere pubbliche, come canali, porti, ma soprattutto le ferrovie, e poi permisero anche di potenziare le industrie, soprattutto le industrie siderurgiche in Liguria. Questo è anche il periodo in cui si sviluppò tantissimo e si modernizzò il porto di Genova. Questo per quanto riguarda la politica interna. Veniamo alla politica estera. Cavour, da persona molto intelligente, sapeva benissimo che il Piemonte non sarebbe mai riuscito a sconfiggere da solo una potenza come l'Austria. Ci sarebbe voluto un aiuto e l'unico che avrebbe potuto aiutare il Piemonte sarebbe stata la Francia. C'era un particolare però. Come fare a convincere Napoleone III ad affrontare una guerra contro l'Austria per combattere insieme al Piemonte? L'occasione si presenta con la guerra di Crimea. La Francia e l'Inghilterra avevano dichiarato guerra alla Russia che stava conquistando i territori dell'impero turco, impero che ormai era in completa decadenza. L'intenzione dell'impero russo era quello, da sempre, di poter raggiungere le coste del Mediterraneo. Infatti il suo obiettivo era proprio di impossessarsi dello stretto dei Dardanelli. In realtà la guerra si era un po' concentrata sulla penisola di Crimea e l'esercito francese cominciava ad aver bisogno di rinforzi. Cavour offrì l'aiuto dell'esercito piemontese a Napoleone III e inviò 15.000 bersaglieri al comando del generale Lamarmora a combattere proprio nella penisola di Crimea. Le truppe italiane si distinsero per il valore e contribuirono alla sconfitta della Russia. Nel 1856 ci fu il congresso di Parigi a cui parteciparono i rappresentanti dei paesi europei per discutere le condizioni della pace. Cavour fu invitato perché comunque il regno di Sardegna aveva partecipato alla guerra. Di concreto non ottenne nulla ovviamente, anche perché noi non avevamo nessun interesse né contro la Russia né tantomeno di territori da quelle parti. Però conseguì un risultato molto molto importante. Ebbe a disposizione una giornata per denunciare le prepotenze dell'Austria. Austria che oltretutto non aveva partecipato in alcun modo alla guerra, quindi non aveva aiutato né la Francia né l'Inghilterra e questa la metteva già in una posizione un pochino di svantaggio. Il discorso di Cavour fu molto chiaro, molto forte e venne riportato poi dai più importanti giornali dell'epoca e diffuso quindi negli altri paesi europei. Due anni dopo, nel 1858, Cavour e Napoleone III strinsero a Plombière un accordo segreto. Cosa prevedeva questo accordo? La Francia si impegnava ad accorrere in aiuto del Piemonte solo se l'Austria lo avesse attaccato per prima. In questo modo l'Austria sarebbe stata sconfitta e avrebbe lasciato il territorio italiano. Territorio italiano che sarebbe stato diviso in questo modo. Allora, la parte dell'Italia settentrionale sarebbe stata sotto la corona sabauda, cioè in pratica, il Piemonte si sarebbe preso anche il Lombardo Veneto. Poi sarebbe rimasto il Ducato di Parma, il Ducato di Modena e una sorta di Regno dell'Italia centrale. Il Regno delle Due Sicilie e poi lo Stato Pontificio, lo Stato della Chiesa. In cambio di questo aiuto la Francia avrebbe preso questo piccolo territorio di Nizza e della Savoia. Una volta stipulato l'accordo, Cavour si diede molto da fare affinché l'Austria fosse sottoposta ad ogni genere di provocazione, perché il problema era proprio che era l'Austria a dover attaccare il Piemonte. Quindi ci furono delle iniziative contro l'Austria, vennero fatte molte manovre militari proprio sul confine in modo da allertare l'esercito austriaco. Insomma, a un certo punto queste provocazioni ottennero l'effetto voluto e siccome Francesco Giuseppe, il sovrano austriaco, non sapeva assolutamente dell'accordo segreto che legava il Piemonte alla Francia, a un certo punto cedette a queste provocazioni e dichiarò guerra al Piemonte e superò il confine invadendo il Piemonte nella zona di Vercelli. Era il 30 aprile del 1859. Era fatta. Era stata l'Austria ad attaccare per prima, quindi a questo punto la Francia avrebbe dovuto intervenire. Era iniziata la seconda guerra di indipendenza.